eccoci qua ciao a tutti amici di minstrel e benvenuti nel nostro salotto benvenuta serena grazie grazie mille oggi siamo qui con serena sinigaglia che è una regista teatrale eh per parlare con lei un po' sia di lei che di Atir di cui è diretti artistica e anche poi della della sera che è la nuova iniziativa Atir di cui poi parleremo ma prima ti voglio chiedere come ti sei avvicinata alla regia? Ah questa non mi avevi detto che mi avresti fatto questa domanda allora guarda io veramente non mi sono avvicinata io alla regia è stato un incontro del tutto casuale quando avevo più o meno la tua età ero disperata perché facevo l'università ma l'università non non mi dava senso non lo so questo rapporto così frontale con l'insegnamento mi mi stordiva non volevo partecipare ecco avevo un grandissimo partecipazione di senso e quindi ho cominciato a fare tutta una serie di attività alternative all'università mentre continuavo a frequentarla finché a un certo punto e non trovavo però mai pace ero afflitta dalla disperata vitalità di cui parla Pasolini in qualche modo e non c'era senso proprio io volevo una cosa che mi facesse sentire capito piena no? Viva! Viva brava viva e l'ultima cosa ho detto proprio quando ero oramai ridotta male proviamo a fare la cosa che non mi è mai venuta in mente prima di adesso e che non mi ha mai interessato più di tanto il teatro ho fatto un corso presso la comuna d'Aires allora avevo 18 anni e mi ha appassionato e quindi ho detto vabbè proviamo a farlo meglio e più approfonditamente ho fatto un provino assolutamente improbabile alla Paolo Grassi ma quell'anno mi hanno preso perché regia perché mi vergognavo di recitare quindi ho detto proviamo regia poi dicevano che avevo un temperamento piuttosto forte gli altri mi dicevano prova regia prova regia ma la verità vera era che mi vergognavo di recitare. Ah ecco quindi insomma è stata una via di uscita. Una via di uscita sì che poi io ho scoperto perché come puoi sapere a 18 anni cioè lanci sempre il cuore oltre l'ostacolo in qualche modo no? L'ho scoperto vivendolo che era la mia dimensione soprattutto perché il teatro è un'arte umana è proprio l'arte dell'umanesimo per eccellenza ed è un'arte collettiva non lo puoi fare da solo cioè perché ci sia teatro bisogna essere almeno in due e questo in qualche modo andava ad aiutare quel fuoco che io sentivo no? Mi faceva sentire meno sola dava significato nella relazione e nella vita condivisa mi dava quel significato che io stavo cercando però prima di provarci non l'avrei mai detto. Certo certamente e invece arrivando poi ad Atir tu hai fondato questa questo questo teatro di ricerca no? Dici di ricerca che in questo momento questa parola nel teatro di oggi che sta ripartendo è ancora forse più forte no? Perché si cerca un'evoluzione perché il teatro possa arrivare alla società e alla città? Ma sai il teatro è l'arte più antica esiste da quando esiste l'uomo nella diciamo quantomeno visto il quinto secolo avanti cristo esiste da quando esiste una dimensione sociale dell'uomo esiste il teatro peraltro c'era ancora prima nel settimo secolo avanti cristo attraverso le ritualità che erano già un'espressione di teatro per questo dicevo è l'arte più umana per eccellenza quindi da una parte questa antichità del teatro questa forza antica del teatro dal mio punto di vista lo rende eterno eterno fintanto che la la specie umana non si estingue anche rispetto a quanti temono da questa situazione terribile e disperante che stiamo vivendo che il teatro possa uscirne devastato io sono tra coloro invece che ritengono che è impossibile perché il teatro esisterà finché esisteranno due uomini sulla terra quando resta l'ultimo uomo è chiaro che allora la ricerca e la conservazione sono due azioni che si permeano l'una dell'altra non ci può essere un presente che non sia fatto di consapevolezza del passato e di proiezione del futuro allora noi ci chiamiamo di ricerca ma non vuole essere quella indicazione diciamo ricerca di un buon rapporto con gli altri e con la società ricerca del bene e del bello non ricerca nel senso di una sopravvalutazione delle forme innovative di questo non ci occupiamo adesso il periodo è pesante e certamente si possono sperimentare anche forme nuove ma il teatro per eccellenza poi la forma la cambia sempre perché non c'è mai una sera uguale all'altra perché cambia il pubblico no ma io parlavo proprio appunto come dici tu di forme di connessione con il pubblico differenti come proprio la vostra iniziativa di cui adesso arriviamo a parlare perché ci tengo di parlarne e però vorrei mandare subito un video dedicato proprio ad Atir che bello grazie il 17 maggio 1996 un gruppo di ventenni andava in comune a notificare ufficialmente la nascita dell'Atir associazione teatrale indipendente per la ricerca li univa una sola cosa il desiderio di fare teatro e possibilmente di farlo insieme ecco ti abbiamo visto che parlare di Atir mamma mia sì tanti anni fa al teatro studio tra l'altro al piccolo era la festa dei dieci anni era il compleanno di Atir e facemmo questa grande festa al piccolo al teatro studio che fu veramente una notte bianca una notte bianca per cui ha un'esperienza un ricordo meraviglioso e tra l'altro voi siete stati attivissimi sui social su youtube nel periodo della quarantena avete fatto compagnia a tutti gli amanti del teatro io personalmente ho visto tantissimi vostri spettacoli e video le abbiamo anche recensiti un sacco sul nostro blog quindi intanto ti ringrazio e vi ringrazio te a nome nostro e per questa compagnia che ci avete fatto e poi ti chiedo appunto quanto è stato importante per voi essere presenti sui social ma guarda i social sono un'opportunità un'opportunità per mantenere la comunicazione attiva con le persone non possono sostituire l'incontro dal vivo ma sai ma io ho fiducia nell'intelligenza del pubblico e delle persone e quindi sono anche convinta che anche chi guarda il teatro attraverso un social sa che non sta guardando il teatro sta guardando un'altra cosa questa cosa magari può diventare anche grazie agli stimoli di questi tempi impietosi però questo prodotto strano approfondendolo potrebbe diventare uno strano genere bastardo tra teatro e mezzi che non sono il teatro allora lì sì cioè se noi operatori del teatro abbiamo voglia e desiderio noi ad esempio ce l'abbiamo perché siamo curiosi si andrà sempre molto curiosi di vedere che cosa può dare la specifica teatrale a questi mezzi che sono sostanzialmente video sono mezzi video che si portano sul linguaggio della fotografia cosa può aggiungere il teatro e che cosa questi mezzi possono aggiungere al teatro allora allora lì devi costruire dei progetti pensati ad hoc proprio con questa no e durante il il lockdown era impossibile farlo con cognizione di causa perché non potevamo vederci era era difficile però noi stiamo già pensando proprio ad eventi che nascono per i social anche quando non ci sarà più l'emergenza perché un giorno non ci sarà più questo virus non ci sarà più l'aspettiamo grazie a quel giorno mamma mia sì sono altri grossi problemi di cui preoccuparci di cui il covid è un sintomo ovviamente però tornando alla materia del discorso che facevamo ci offrono l'opportunità di sperimentare delle forme io credo che il teatro possa dare una rara intensità al prodotto video perché il teatro si occupa di intensità le storie del teatro sono sintesi e sono in qualche modo epica si distinguono dal cinema e dalla televisione perché non si fondano sul realismo no ma l'intensità dei sentimenti per cui infatti se poi vai a vedere al teatro le storie sono pensa Shakespeare cioè in due ore muoiono tutti succede di tutto perché perché è una sintesi allora quell'intensità lì magari studiata ad hoc sui mezzi potrebbe dare vita a cose strane oppure spettacoli girati spettacoli teatrali ma girati pensando che verranno che vadano sui soci cioè insomma su esatto sul digitale ed è forse anche un mezzo per avvicinare un po' quel pubblico che di solito a teatro non ci va anche proprio dopo questo periodo insomma per aggiungere ancora più persone no? Assolutamente sono sono mass media mentre il teatro è un media questo è. Esatto. E non potrà mai che essere un media anche se ti vedono in tantissimi non avrà mai la forza dei social che hanno un rapporto uno a uno però invece ha la forza della della collettività e della presenza dal vivo io credo che questo che questa questo distanziamento sociale a cui siamo stati obbligati ponga tutti noi operatori teatrali nell'obbligo di ribadire di lavorare ancora di più per ricordare la differenza che fa il rapporto dal vivo e che è cura dell'anima quindi è importante tanto quanto quella sanitaria cioè è un emergente ed è ed è se posso però dimmi se mi dilungo no 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 vai vai e che stupisce ovviamente negativamente che io cito sempre questa conferenza stampa tra le molte che il nostro presidente del consiglio ha fatto e ha fatto soprattutto soprattutto durante il lockdown in una conferenza molto importante perché doveva annunciare il primo scioglimento delle restrizioni del lockdown ha fatto un lungo elenco di tutte le attività che riprendevano come riprendevano quali erano le norme e non ha parlato di istruzione e di cultura per me lì è stata come un'agnizione ho detto in effetti la cultura se la passava malissimo anche prima del covid perché non mistifichiamo il covid i problemi sono solo emersi i problemi del capitalismo per come è arrivato a noi oggi c'erano tutti prima del covid anzi forse il covid ha avuto questa forza dirompente proprio evidenziati esatto li ha evidenziati ma forse ha avuto questa forza prorompente proprio perché li abbiamo trascurati colpevolmente trascurati questi problemi e quindi basta un piccolo virus per mandare in tilt una delle società più tecnologiche che si siano mai conosciute ecco allora in quel mondo lì cultura istruzione non erano proprio al primo posto soprattutto in italia ma stupiva fortemente questa dimenticanza questa omissione e lì proprio io mi sono detta no caspita non è vero presidente non è vero perché del teatro e della cultura non importa soltanto al gruppo di teatranti o al gruppo di insegnanti motivati dell'istruzione della cultura importa a milioni di cittadini italiani e questa omissione è un'omissione gravissima e glielo dimostreremo cioè non può passare l'osservata ognuno con quello che può fare allora noi con Atir mettendo in moto tutta una serie di azioni allegre per ribadire di concerto col pubblico cioè in quanto cittadini l'esigenza di una sana istruzione e di una sana cultura per un paese sano anche perché è proprio mancata poi la dimensione collettiva in questo periodo e quindi la si ricerca ancora di più il teatro è una di quelle che ce lo possono dare in maniera più forte e più vera ma avendo parlato di social io introduco il nostro intruso che parlerà con te più tecnicamente di questi mezzi e poi io torno eccomi qui serena buon pomeriggio piacere di conoscerti grazie piacere mio intanto è un piacere ascoltarti e poi hai detto delle cose molto importanti anche il fatto di non sostituire l'offline quindi la vita reale con l'online ecco WMA web marketing artistico nasce appunto per questo per far capire comunque a tutti gli artisti emergenti ma anche professionisti del mondo dello spettacolo che ottimizzare il profilo al meglio per utilizzarlo come strumento di lavoro significherebbe rivoluzionare un po' l'approccio che oggi nel digitale manca quell'approccio che è visto come esibizionismo da parte dell'artista quando invece può diventare una sorta di vetrina per l'artista stesso è quella sorta di non ripudiare ecco da parte del professionista il social invece di utilizzarlo per la ricerca degli artisti emergenti quindi sarebbe molto interessante questo volevo sapere da te cosa ne pensi vedi questi due mondi ottimizzati come cambiano ecco guarda io credo a parte che condivido e sottoscrivo quello che tu hai detto mi fa piacere e sentirlo da parte di un giovane è confortante grande io penso che adora la bellezza la bellezza che rende il gesto artistico unico e prezioso sia difficile da ritrovare nei social tu la trovi pur usando sempre il mezzo video la vai a ricercare al cinema nel cinema lo stesso linguaggio video assume termini poetici e di bellezza con i social questa narrazione di una quotidianità dell'ego è un po antitetica a un discorso che è sempre universale ed è sempre rivolto all'altro non a te stesso quando fai arte e fai arte di comunicazione no rispetto all'esibizionismo quindi sarebbe molto interessante per una volta capire se in social possono diventare una forma di bellezza pura non non di marketing perché ad ora l'unico vero scopo è quello prettamente pubblicitario ma uno scopo prettamente pubblicitario diventa deleterio quando è l'ego mio o tuo che abbiamo a oggi foto oggi sto prendendo esatto e chi se ne frega esattamente carezzo il mio gatto e chi se ne frega anzi può creare delle grosse problematiche egotiche questo atteggiamento no addirittura come dicevi tu scambio tra la realtà e e la virtualità però è anche a volte troppo utilizzato in primis da noi giusto per dirti ti faccio la pubblicità di quello che faccio invece il mezzo video potrebbe essere un mezzo potente di narrazione e di elaborazione del bello naturalmente quindi di storie pensate col cuore con la testa da gente che lo fa di mestiere e girate con intelligenza con sapienza tecnica questa sarebbe la sfida io ad ora di operazioni di bellezza sui social raramente le ho viste assolutamente ancora questo connubio non è perfetto e per quello comunque nasce web marketing artistico essendo anche io come detto un giovane ho 23 anni e ho fatto comunque studiato teatro musical per per nove anni e e tante volte quando stavo lì sul palco a provare per per uno spettacolo mi accorgevo che c'erano delle problematiche in termini appunto di comunicazione in termini anche di valori dell'artista perché molto spesso cerchiamo sempre il successo no l'artista l'attore cerca di arrivare nei grandi palcoscenici eccetera eccetera ma come ci arrivi il come manca e quella è una problematica ecco troviamo la soluzione soltanto nell'andare in giro per l'italia nel mondo a fare casting magari poi ci dicono no centomila volte poi perdiamo la speranza andiamo a fare i camerieri non sappiamo come riuscire a vivere di questo mestiere quando invece io giuseppe cosentino oggi ho detto ok la soluzione c'è mi presento sui social per approcciare al professionista quindi abbatto quel muro che oggi c'è che il rapporto tra artista emergente e professionista dello spettacolo come mi faccio una mia carta di identità digitale quindi faccio vedere chi sono sono professioni professionale e professionista e dopo contatto il professionista dello spettacolo attraverso un email o comunque attraverso l'approccio digitale e questo devo dire che da da tre anni a questa parte funziona sia dal punto di vista professionista dello spettacolo che artista emergente quindi il mio unico obiettivo è quello di portare giovani come me a teatro perché appunto il teatro non morirà mai questo ne siamo di questo ne siamo tutti consapevoli però ci dobbiamo lavorare anche un po noi ecco assolutamente sì dobbiamo fare un grande lavoro di inclusione come si dice esattamente io serena ti ringrazio sei stata veramente esaustiva in tutto quello che dici e io ti seguirò volentieri e vi aspetto quindi passo la parola a Valentina grazie a te giuseppe grazie eccomi sono tornata dopo l'intervento del nostro intruso e arriviamo a parlare della prima stella della sera raccontaci un po' questa iniziativa perché ci sta ascoltando beh appunto se chi ci sta ascoltando ci ascolta dall'inizio capirà che come logica conseguenza delle premesse che ho fatto prima tra le azioni che abbiamo sentito necessarie perché noi abbiamo sentito come un dovere di cittadini che ritengono che l'atto teatrale sia un atto necessario per una società sana perché cura l'anima perché si occupa della qualità di relazione tra le persone insomma il gesto teatrale andava recuperato il prima possibile con con anche un poco di eh allegria e e perché di fronte a una tragedia riuscire a mantenere il cuore leggero e il modo per credo per per vincerla eh per superarla e non lasciarsi abbattere e e quindi abbiamo detto appena ci sarà la possibilità appena potremmo noi vogliamo fare un una grande azione teatrale noi non abbiamo una sede siamo una piccola associazione certo siamo i che da tanto tanto tempo eh operatori culturali nel teatro siamo tutti professionisti ci sono dei grandi professionisti all'interno dell'ATIR eh però non siamo certamente il piccolo voglio dire sì sì con i nostri mezzi con i nostri strumenti abbiamo organizzato un festival dal 7 luglio al 28 luglio tutte tutti i tramonti alle sette e mezza scatta il teatro scatta il teatro quindi tutti i giorni sono 22 giorni eh nel parco di chiesa rossa quindi in una situazione molto amena molto bella eh perché eh le periferie di Milano hanno luoghi speciali e parco di chiesa rossa è quello è uno di questi davanti al alla chiesa dei frati cappuccini che ce l'hanno diciamo gentilmente offerta concessa eh per una sessantina di spettatori tutto contingentato tutto preciso ogni sera si esibisce un artista importante ma la specificità perché a tempi eccezionali bisogna rispondere con azioni in qualche modo diverse ed eccezionali l'eccezionalità è che tutti questi artisti alcuni sono Atir altri sono artisti eh di Milano molto molto noti e teatri strutture di Milano molto note a cui siamo affezionati in quanto sono mille anni che sono nostri colleghi e poi da quando non abbiamo più una sede ci hanno ospitato in giro per i loro quindi teatro dell'elfo teatro della cooperativa pacta mtm e molti altri insomma tutti insieme abbiamo aderito questa idea che era di fare l'appuntamento al buio cioè a sorpresa nel senso che tu leggi eh tutti gli artisti eh presenti con i titoli dei loro spettacoli naturalmente ma non sai quando saranno cioè leggi Lella Costa che ti racconta della spesi però tu non sai quando sarà e questo questo concetto questo gioco fa parte dell'allegria con cui vogliamo vogliamo riprendere la nostra attività proprio perché siamo in una situazione drammatica e tragica e e e e diciamo anche eh e soprattutto eh perché vogliamo dichiarare un patto di fiducia col pubblico che viene a teatro perché difende il teatro perché crede nel teatro crede che l'importante sostanziale sia proteggere con tutte le proprie forze il momento dell'incontro della polis politico sempre politico perché se sei in un gruppo di persone che si ritrova a ragionare su parole insieme tu stai facendo già un atto di coscienza politica oltre che un'esperienza di condivisione fondamentale per il benessere dell'anima certo e allora eh uscire dalle logiche del vado a vedere il nome piuttosto che eh vado a vedere quel titolo in questo momento ci sembrava necessario fiduciosi che il pubblico avrebbe capito sostenuto che si sarebbe divertito prezzi assolutamente popolari perché il biglietto costa dieci euro bisogna farlo ovviamente online eh sul sito che è www.atirteatroringhiera.it e è stato bellissimo vedere tutti questi artisti così diversi citavo della costa ma ce ne sono eh moltissimi di 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 grande spessore fausto russalesi arianna scommegna sandra zoccolan pilar perezaspa chiara stoppa rita pelusio chiara stoppa che abbiamo anche avuto con noi un'intervista qualche mese fa durante la quarantena è grande chiara eh salutiamo chiara sì ciao stoppa e tutti questi artisti erano entusiasti di eh lanciare questa sfida con noi e entusiasti eh a proposito degli ego del dell'ego riferito eh del del narcisismo eh dell'individualismo del homo homini lupus no del capitalismo delle logiche normali e anche necessarie in questa società che si fondano sul nome capito sulla eh allora non vado a vedere questo perché non lo conosco vado a vedere quella perché la conosco gli artisti per primi hanno detto quando l'ho detto a Lella Costa Lella Costa ha detto ma è un'idea bellissima e quando Lella lo diceva lo diceva da cittadina perché anche lei esattamente come me esattamente come te presumo esattamente come Giuseppe probabilmente nel sentire che un presidente del consiglio non cita istruzione e cultura da cittadini prima che da studenti universitari da ehm operatori teatrali culturali amanti della cultura vogliamo dire guarda che noi noi riteniamo così necessario l'atto dell'incontro culturale che lo facciamo al buio giochiamo alla roulette russa e questo era il piccolo gesto simbolico il piccolo contributo che noi eh potevamo dare come Atir eh per la condivisione e per un momento di di allegria e di gioia condivise in un momento così difficile di speranza anche. E com'è risposto il pubblico alle prime due repliche insomma che avete fatto no? Sette otto. Benissimo sold out. Adesso chiaramente bisogna tenere perché sono ventidue ventidue giornate. Sperare che piova il meno possibile e continuare a insistere a fare promozione perché si sappia perché sono convinta che più eccola qui questi mezzi sono utilissimi infatti ti ringrazio dello spazio che hai voluto dedicare. Grazie a te e a voi di essere qua con noi. Più persone lo vengono a sapere più credo che ci saranno persone che saranno desiderose di eh di partecipare e di e di contribuire a dare il loro segno come cittadini. Poi il posto è veramente bellissimo. Si fa l'aperitivo eh nel nel parco eh e poi si entra alle sette e mezza e un po' la maniera del teatro greco è anche molto bello vedere il tramonto calare eh sulla sui muri della della chiesa mentre l'attore va a concludere il suo monologo perché insomma eh tendenzialmente sono eh monologhi reading con musicisti eh certo quello che per ora si può fare. Quello che si può fare tutto quello che si può fare lo stiamo facendo però è proprio confortevole non ci sono le zanzare perché le zanzare arrivano quando arriva il buio ma noi finiamo l'istante prima. È bello cioè carichi eh del nero e della fatica e del disorientamento eh di questi mesi che abbiamo vissuto che probabilmente continueremo ancora a vivere è una piccola oasi eh di pace e di benessere. Davvero la consiglio di cuore come col cuore è stata proposta. E poi per tutti gli amanti del teatro è proprio bello e confortevole vedere che sta ripartendo perché ci si aspettava che chissà quando sarebbe ripartito ed è vero magari alla normalità torneremo tra mesi e mesi però intanto c'è qualcosa che ci fa ben sperare che possiamo vivere questi momenti di condivisione. Assolutamente credo che chi più di un teatrante non ha nella testa come dire la liquidità, l'elasticità, la fantasia e la creatività per fare di necessità virtù. Siamo sempre arrivati dalle cantine facendo la fame e inventandoci le cose e è anche proprio il nostro primo dovere morale è portare benessere dell'anima eh ovunque ce ne sia bisogno e con in qualsiasi con qualsiasi mezzo perché in fondo basta un attore che ha veramente il bisogno, l'urgenza di raccontarti una storia e uno spettatore che ha l'urgenza, il bisogno di riconoscere una nuova storia e che quell'incontro, quell'esperienza accade arricchendo entrambi dell'esperienza stessa. Perciò noi noi teatranti dobbiamo attivarci, dobbiamo attivare la nostra fantasia per convivere in questa situazione resistendo, combattendo, ribadendo i nostri diritti perché questo è importantissimo ma non rinunciando perché nel rinunciare non è che magari eppure ci salviamo noi ma non ma non si salva eh la società ecco. Vero e io ti faccio un'ultima domanda poi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata bellissima eh allora ti chiedo io sono una giovane attrice che sta muovendo sui primi passi quindi ti chiedo perché mi sento un po' presa in causa quali consigli daresti ai giovani ragazzi che cercano di muoversi in questo ambiente? Allora il primo consiglio sulla base di quello che ti ho detto prima è fare cioè ehm fai fallo il teatro se ancora non sei scritturata se eh non riesci a essere presa da un teatro se non c'hai il regista importante che ti dirige prendi due amici chiuditi in casa e comincia a lavorare con loro poi chiama altri cinque amici e mostragli quello che hai fatto condividi la passione pensa non pensare pensa al percorso pensa a quello che vuoi fare come diceva Giuseppe prima eh come dire non fossilizziamoci sui risultati pensiamo al percorso per fortuna eh nella diciamo sfortuna perché il teatro è la cenerentola delle arti eh soprattutto in Italia quindi mh generalmente riceve molti meno contributi no generalmente riceve molti meno contributi dell'opera lirica del cinema e però ha dalla sua la forza che può convivere con la povertà povertà intendo di mezzi perché ripeto il grande mezzo il mezzo straordinario sei tu Valentina e allora innanzitutto prima azione fallo preparati un monologo preparati un dialogo che ti piace fatelo scrivere da un amico su argomenti che ti interessano e poi fallo vedere rompi le scatole chiama tutti i tuoi amici e dopo i tuoi amici passa parola e lo farai vedere insieme ai tuoi amici arriveranno altri tre che non erano amici ma che quando lo vedranno e stabiliranno un rapporto con te diventeranno amici certo che devi fare fare e andare a vedere teatro e avere l'intraprendenza assolutamente di andare nei nei camerini dopo lo spettacolo e salutarli gli artisti conoscerli anche questo non siate timidi eh ci sono sì artisti che magari si scocciano ma la maggior parte degli artisti gli fa piacere perché sa anche che cosa i giovani cosa rischiano perché tipico della giovinezza e in fondo è anche giusto così però di mettersi in un'ottica eh tra eh la vittima e la rabbia e il paradosso quando io mi sento dire da un ragazzo giovane ma come faccio a conoscere questa persona come faccio a conoscere quest'altra persona guarda che anche registi molto importanti hanno il problema di come fanno a conoscere perché non è che ai registi importanti è sempre offerta l'opportunità di fare un casting o di fare dei laboratori per conoscere nuovi attori sì sì perché è il sistema che è un po' andato cioè è il capitalismo che su su il teatro non non funziona così bene quindi ha obbligato molti artisti a uno stress di lavoro tale per cui non riescono a fare conoscenze nuove allora anche il fatto di con molta umiltà e di prendere il coraggio a due mani di andare da un artista che ti piace dopo che si è esibito e dirgli guarda mi mi piacerebbe tantissimo lavorare con te eh sei bravissimo eh posso lasciarti la mia mail posso disturbarti non fatevi problemi perché non è così facile per entrambe le parti incontrarsi quindi entrambe le parti lo desiderano più di quanto voi crediate io ti ringrazio per questi preziosi consigli che terrò a mente sicuramente anche tutti i ragazzi che ci stanno seguendo niente ti ringrazio ancora di essere stata con noi ricordo invito siete dei geni bravi bravissime grande serena la Carla Manzon la conosco grande Carla grazie noi siamo la vera forza del teatro e non i burocrati che lo stanno dirigendo grazie per amare gli attori ottimo consiglio grazie Carla grazie allora dicevo io invito tutti i nostri ascoltatori e chi ascolterà la diretta più tardi perché rimane salvata ad andare a vedere gli spettacoli della della segna promossa da Atir perché il teatro ha bisogno di condivisione di spettatori in questo momento quindi assolutamente la prima stella della sera la prima stella della sera da oggi fino in realtà è partita il 7 comunque dal 7 luglio al 28 luglio tutti i giorni alle 7 e mezza al parco di chiesa rossa presso la chiesa dei frati cappuccini è un posto bellissimo c'è il bar non ci sono le zanzare 7 e mezza 9 ci troverete tutti lì ad accogliervi grandi artisti grandi titoli e ribadiamo insieme che che la prossima volta il nostro presidente parli parli di istruzione e di cultura tra le sue priorità in agenda viva viva chi fa il teatro viva chi ama il teatro viva l'essere umano nonostante tutte le sue gravi problematiche e fragilità devo ringraziare fondazione cariplo per il festival e il municipio 5 che hanno sostenuto e ci hanno permesso insieme alle forze di atir di organizzare una rassegna così poderosa vi aspettiamo allora io ringrazio ancora te ricordo tutti i nostri ascoltatori che dalla settimana prossima torneremo con altre interviste quindi vi aspettiamo mettete mi piace alla nostra pagina per non perdervele e ti auguro buona giornata serena grazie ancora grazie grazie valentina anche a te ciao 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 ciao